Martedì 30 ottobre la Camera di Commercio di Ancona ha presentato il nuovo bilancio di sostenibilità, documento di rendicontazione socioambientale che misura e comunica ai cittadini e ai imprese l'impatto dell'attività dell'ente nel contesto in cui ha inserito. In questo momento il ruolo delle Camere, come è stato ribadito ieri anche dal Ministro Passera a Venezia, è sempre più insostituibile, ma che comunque questo concetto ci porta a una maggiore responsabilità e a una maggiore coerenza per i risultati. Non solo informazioni sui consumi energetici, ma anche dettaglio dei servizi amministrativi resi di quanto fatto negli ultimi mesi a favore della creazione di nuove imprese, dei contributi erogati alle imprese, delle partecipazioni negli organismi di gestione delle infrastrutture locali. Tutto questo in accordo agli obblighi di legge, comeppure ad una necessità che la Camera di Commercio avverte è soddisfa da tempo, ovvero rendere conto delle nostre scelte e dei risultati della nostra gestione a tutti i nostri stakeholder. Emergono dei fatti molto concreti, la concretezza io credo che sia una delle cose che questa Camera sta perseguendo con grande decisione. Emerge che la semplificazione, che è una delle cose alle quali noi puntiamo per un servizio alle aziende, alle imprese e alla comunità, sta arrivando quasi al 100% dei documenti che passano ormai attraverso non più gli sportelli, ma attraverso l'informatica. C'è un sostegno alle imprese molto forte, molto generoso, molto attento, che passa attraverso un sostegno al credito importante, attraverso i confidi, attraverso la formazione, attraverso la promozione del territorio. Importanti i numeri. La Camera di Commercio di Ancona in tre anni ha erogato 850.000 euro per il fondo di garanzia regionale, un totale di 180.000 euro ai confidi provinciali, destinato 1.648.000 euro per rafforzare la banda larga. In più c'è sempre un maggiore impegno per fare della cultura un elemento di crescita economica. Altri paesi hanno già dimostrato ampiamente che con la cultura si possono fare buoni affari. E per l'Italia, che ha l'80% del patrimonio artistico e culturale del mondo, impegnarsi in questa direzione deve diventare un obbligo.